Però, nell'epoca lineare che cosa succede? Che è il meccanismo che è funzionato fino ad adesso? Estrazione di materiale in altre parti del mondo legno, petrolio, metallo, eccetera, eccetera trasporto dai luoghi di estrazione ai luoghi di utilizzo trasformazione industriale, consumo, smaltimento la cosa che non funziona è questo l'ultimo passo, smaltimento perché attesta una linearità che denota un prelevo crescente di risorse e una produzione crescente di impatti sull'ambiente